benvenuti con questo nuovo video ragazzi oggi sono qui direi che mi è arrivato un pacco davvero sorprendente non mi immaginavo che fosse arrivato proprio stamattina e c'è anche una lettera e vi leggo subito Christian Paggi benvenuto alla collezione DC Comics supereroi visto il grande successo ottenuto ritorna questa splendida collezione con le più belle miniature riproposta in una nuova veste arricchita con una nuova base della miniatura è accompagnata da un fascicolo aggiornato sulla storia del personaggio ringraziamo per il tuo ordine siamo sicuri che questa collezione ti offrirà grandi soddisfazioni cordiale il servizio cliente PS la nostra priorità la nostra priorità è la tua soddisfazione se per qualsiasi motivo non sei soddisfatto del tuo ordine contatta il tuo servizio cliente entro 14 giorni del ricevimento del pacco e non vi dico quale va bene e qui e qui abbiamo il nostro pacco ed ecco il nostro taglierino bene ragazzi che cosa si nasconderà no 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 wow la figura di Batman e io l'ho presa gratis non l'ho comprata e apriamolo subito non c'è strano non c'è il sigillo ve lo faccio soltanto vedere ecco c'è anche l'articolo mettiamolo qui non farò tali qui c'è la storia del supereroe del suo dell'eroe Batman e qui abbiamo la figura di Batman non voglio proprio aprirla totalmente perché se no poi si riuscirebbe e questo di un essere che è un'arma è un'altra cosa e sono stracontente di aver ricevuto questo pacco immaginavo che avessi Wonder Woman, ma Batman è tutta un'altra cosa a me piace moltissimo sono soddisfatto del vostro servizio davvero poi abbiamo un altro pacchetto è inviato proprio verso le 17 e 32 all'incirca come cacchio si apre eccolo è per il mio cellulare non so se riesce a supportare ma comunque vabbè ho commesso un errore ho commesso un errore ho cercato su Amazon la pennina per il mio fottutissimo cellulare ma pare che io abbia ragionato soltanto l'astuccio ma comunque non è male potrei metterlo quella della mia tavoletta grafica non è che c'è male va bene mettete un bel like mi invito a iscrivervi al mio canale e ci vediamo al prossimo video ragazzi almeno c'è una soddisfazione grandissima con Batman ciao ciao